Preparazione psicoattitudinale. Oggi intervisto Marco, mio allievo del corso di preparazione psicoattitudinale. Buongiorno Marco. Buongiorno dottore. Marco tu come mi hai trovato, come mi hai scoperto? Io ho scoperto appunto lei tramite un altro ragazzo, un mio amico che aveva frequentato il suo corso, era risultato anche lui idoneo a un concorso per le forze armate e quindi ho deciso di iscriversi al suo corso. Tu cosa fai attualmente Marco? Io attualmente lavoro, però appunto adesso ho finito la scuola e ho iniziato a lavorare, però nello stesso tempo mi sono dedicato anche allo studio per i concorsi. Questo è stato diciamo il tuo primo concorso? Sì, è il mio primo concorso. Un concorso diciamo all'interno delle forze dell'ordine, mettiamolo così. Ok Marco, quindi tu hai avuto l'accesso al videocorso e successivamente al gruppo Facebook riservato, dove abbiamo fatto delle coaching di gruppo e quant'altro. Diciamo, quali sono le tue riflessioni relative proprio all'inizio del corso? Fin da subito il corso mi ha permesso di acquisire diverse competenze, sia a livello verbale ma anche a livello psicologico, che mi ha permesso di arrivare alla commissione finale con molta sicurezza e certezza di ciò che stavo per dire, senza nessuna paura, senza nessun timore. Tu Marco quanto tempo hai dedicato diciamo alla preparazione in generale? Io alla preparazione ho dedicato circa due mesi, perché mi sono iscritto subito al corso in modo tale da dedicarmi giorno per giorno, dove appunto ogni giorno dedicavo circa 1 o 2 ore di studio. Ok, ok. Diciamo, quali sono state le tue difficoltà? Io parlo sempre di difficoltà all'inizio. Quali sono state diciamo le tue difficoltà anche nello svolgimento delle mie indicazioni? Difficoltà posso... non ne ritengo, cioè non ne ho trovate, perché il corso è caratterizzato da diversi step che ti permettono di acquisire competenze poco alla volta e in seguito di raggiungere l'obiettivo definitivo, quello di svolgere un colloquio in maniera perfetta quasi. Quindi diciamo tu mi hai voluto contattare, svolgere il mio corso proprio per sviluppare la capacità di autonarrarsi e di sapere esplicitare in maniera impeccabile le proprie capacità in generale, diciamo, attraverso il lavoro che abbiamo fatto di introspezione, le consulenze e quant'altro. Ho capito. Marco, tu comunque avevi già studiato, diciamo, qualcosa che ha a che fare con la preparazione o la crescita personale in generale o è stato per te una novità? No, è stato per me una novità, poiché tramite questo mio amico mi aveva subito consigliato, lei, a seguire appunto il suo percorso di studio, poiché è da raggiungere determinati obiettivi come era quello dell'idoneità. Ho capito. Quindi adesso tu sei tranquillo, hai ricevuto quest'idoneità, sei... Posso ritenermi tranquillo. Ho capito, ho capito. Ad un amico o ad un'amica che insomma si accinge a prepararsi o comunque a dover sostenere una selezione o un colloquio di selezione in generale, di lavoro. Tu Marco consiglieresti, diciamo, una preparazione classica, no? Studiando nei libri, che comunque è una preparazione che consiglio sicuramente anch'io, o anche qualcosa di più interattivo? No, io consiglio soprattutto qualcosa di più interattivo, perché ti permette anche di confrontarti con un'altra persona, in questo caso lei, che è uno psicologo, che permette anche di correggere tutti gli eventuali difetti o eventuali sbagli. Ho capito. Come hai ben visto, diciamo che non ci sono barchette magiche in questo corso, ma semplice, diciamo, preparazione e soprattutto introspezione anche personale, rispetto a quelle che sono le proprie capacità e attitudini. Tant'è vero che io sì, do la mia indicazione, però come hai ben visto, non dico cosa fare, cosa non fare. Tutto deve essere connesso anche a un grande studio dietro. Beh, devo dire che tu sei stato molto anche scrupoloso, eh? Mi hai contattato abbastanza tempo prima, hai approfondito in maniera proprio, diciamo, specifica ogni singola area che ho voluto, diciamo, insegnare. Bene, bene, Marco. Ma dimmi un po', quei giorni lì durante la selezione come ti sentivi? Anche guardando, diciamo, gli altri ragazzi, no? Sono dei giorni duri, sia per le prove fisiche, ma anche, soprattutto, per la parte dello psicologo, della commissione finale. Perché, tra virgolette, il corso ti prepara in maniera perfetta. Però, ovviamente, lì non sei davanti al dottore Alvaro Torino, ma sei davanti a degli ufficiali. Però, come appunto già ho detto prima, io ero molto sicuro, tranquillo. Dacci qualche chicca in più, Marco. Com'è andata? Qualche suggerimento ai ragazzi che ci guardano? Di essere, prima di tutto, di frequentare il corso, ma soprattutto di essere tranquilli, sereni e non mostrare nessun segno di incertezza e di insicurezza. Beh, tu mi dicevi prima che durante il colloquio, insomma, diciamo, hanno provato a stuzzicarti, no? Per capire un po' la coerenza. Sì, certo. In base alle domande che abbiamo dato durante il questionario, hanno chiesto, appunto, mi hanno ripetuto le stesse domande per vedere se rispondevo in modo coerente. Bene, bene, Marco. Va bene. Hai delle critiche o vuoi dire qualcos'altro relativamente al corso di Intrapreso Insieme? No, non ho nessuna critica, anzi, non smetterò appunto di ringraziarla, perché mi ha permesso di raggiungere un mio obiettivo, un mio sogno che tanto desideravo. Vabbè, Marco, io ti ho dato, insomma, come a te, come ad altri ragazzi, insomma, ho fornito quello che è il mio piccolo e umile contributo. Poi siete stati veramente in campo a voi, ad attuare, a mettere in pratica, soprattutto a capire queste dinamiche anche intrapsichiche, devo dire, nel saper appunto esplicitare le proprie attitudini. Va bene, Marco, un'ultima cosa. Tu collabori o lavori per me? No, assolutamente. Ok, posso pubblicare, Marco, questo video affinché possa pubblicizzare il mio corso anche ad altri ragazzi? Sì, certo. Va bene, Marco. Ti ringrazio e un in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, Marco. Arrivederci.